C'è stata nelle ultime ore una prima risposta concreta alla disperata richiesta di aiuto di due genitori che avevano avuto il coraggio di denunciare quello che era accaduto ai loro figli minorenni. Episodio di bullismo, aggressioni, minacce, baby gang a tutti gli effetti che da oltre due anni stanno seminando il panico tra giovani e giovanissimi di Arezzo e provincia. Il caso era già approdato in consiglio comunale grazie a Francesco Macri di Fratelli d'Italia. Nelle scorse ore invece, su esplicita richiesta del sindaco, si è riunito presso la prefettura di Arezzo il comitato provinciale per l'ordine alla sicurezza pubblica presieduto dal prefetto Alessandra Guidi. Nelle scuole sicuramente noi continueremo a fare un'attività insieme agli insegnanti di sollecitazione a che insomma anche gli studenti e i genitori denunciano quelli che possono essere ovviamente atti di bullismo ma ovviamente c'è anche un'assoluta attenzione, un assoluto impegno delle forze di polizia congiunto dalle forze di polizia perché vengano anche stroncati sul nascere tutti quelli che sono atti di bullismo vero e proprio che ovviamente rovinano la vita dei ragazzi e anche di chi poi si rende autore di questi atti. Polizia e carabinieri hanno spiegato che operano assieme per dare maggiore efficacia alle attività investigative. si tratta di un lavoro intenso, si legge nella nota, che richiede impegno in termini di tempo e risorse umane. Per questo è stato lo stesso questore ad aver richiesto al Ministero dell'Interno un incremento dell'organico per la questura di Arezzo. A queste attività partecipa anche la Polizia Municipale che assicura nei servizi di controllo del territorio con le forze di polizia il massimo sforzo. L'amministrazione comunale conclude la nota ufficiale e continuerà a monitorare la situazione sicurezza senza interruzione.